Amici di Tullopezzo, eccoci oggi alla scoperta di BMW X1 S-Drive 18D Business del 2014 con soli 61.000 km che può essere vostro a 19.900 euro oppure con anticipo di 900 euro a 35 rate da 397 euro. Stiamo parlando di una motorizzazione 2000 di cilindrata a gasolio da 143 cavalli, un motore brillante che però riesce anche a consentire consumi molto ragionevoli. Siamo infatti intorno ai 18-19 km con un litro nell'utilizzo misto. Per quanto riguarda la dotazione abbiamo fari all'oxeno che danno un tocco di stile ed eleganza nel frontale. Abbiamo poi cerchi in lega da 17 pollici. Andiamo quindi ad aprire il bagagliaio. Molto ampio il bagagliaio di questa X1. Possiamo inoltre abbattere i sedili della fila posteriore in modalità 40-20-40 per avere ancora più spazio. Abbiamo un cambio automatico a otto rapporti. Abbiamo poi il climatizzatore automatico B-Zona con controlli quindi per il guidatore e per il passeggero. E' presente il sistema di navigazione che possiamo comandare direttamente dall'iDrive presente nel tunnel centrale. Abbiamo ovviamente il navigatore con cartografia italiana ed europea. Possiamo connettere fino a quattro dispositivi Bluetooth. Possiamo inoltre impostare la nostra guida in modalità Eco-Pro che ci consente un consumo di carburante maggiore. E' presente poi il sistema Start e Stop che ci aiuta a risparmiare carburante in città spegnendo l'auto quando ferma, ad esempio i semafori. Abbiamo poi il volante multifunzione per gestire i comandi del sistema di navigazione. Ed è presente poi anche il Cruise Control. Volete saperne di più su BMW X1 o sul nostro parco auto usate? Visitate il nostro sito www.tullopezzo.it Inviateci una mail a info-tullopezzo.it Oppure passate a trovarci in concessionaria per un test drive.